Abbiamo finalmente i nomi ufficiali dei componenti della nuova Stardust House, ecco quali sono. Quest'anno ci saranno ben nove nuovi creator, ma anche delle riconferme. Partiamo da quest'ultime. Resteranno in Stardust House Manila Chiarello, Iris Di Domenico, Mauro Giacomini, Lisa Lucchetta, Aurora Mariani, Matteo Robert e Scarlett Rodriguez. A loro si aggiungeranno i nuovi creator che sono Camilla Bonardi, Eddie Idem, Fabrizio Mannino, Alissa Maurino, ma anche Aurora Manzali e Diego Simili, e non dimentichiamoci di Massimiliano Tosti e Alberto Tozzi. Pronti a scoprire come ci sorprenderà la nuova House? Da Reazione di Webbo è tutto e ci vediamo al prossimo video.